Abbiamo raggiunto in comune il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, per un'intervista approfondita su alcune questioni che lo riguardano. Partiamo con uno dei cantieri appena aperti, il muro di fronte alla chiesa di Santa Maria. Molti hanno criticato alcune scelte. Come mai proprio adesso sono iniziati questi lavori? Il lavoro del muro è un lavoro importante che oramai va a rimuovere una situazione che era precaria, era comunque pericolosa. Tant'è che noi siamo intervenuti già un po' di tempo fa rimuovendo il muretto al di sopra di questo muro di contenimento che andava rimosso perché è pericolante. Ma al di là della polemica, io capisco che ogni argomento è utile e buono per creare dibattito e discussione, però il muro è un lavoro che andava fatto. Abbiamo programmato di farlo prima dell'estate perché c'era questa necessità. Abbiamo fatto una devoluzione di un mutuo per dare copertura finanziaria, però nel frattempo tutta la procedura di devoluzione, tutti i tempi che si sono inevitabilmente dilatati, ci hanno fatto arrivare a ridosso dell'estate, motivo per cui non era il caso di avviare un cantiere in pieno centro come questo, perché inevitabilmente si sarebbero arrecati dei disservizi e dei disagi. E in piena stagione estiva non mi sembrava il caso, abbiamo ritenuto di rimandare, di procrastinare questo intervento. Anche lì c'è stata una polemica, io capisco le polemiche, si deve ridire un po' tutto. Abbiamo usato queste risorse che erano mutui pagate, ricordo, dai cittadini, rate di mutui pagate con i soldi dei cittadini, per completare un lavoro invece sul quale avevamo fretta di concludere prima dell'estate, ossia piazza Punta dell'Inferno. Quindi io credo che quando un amministratore usa i soldi, li spende, e li spende bene come sono stati spesi per il caso di Punta dell'Inferno, ha fatto il suo lavoro, ha fatto bene. Abbiamo poi su questo muro rivisto alcune cose della progettazione, lo abbiamo riapprovato, abbiamo richiesto, ci siamo preoccupati di ridare copertura finanziaria e adesso partiamo con il lavoro del muro. Non è un muro che compare e scompare, o un pericolo che compare e scompare. Capisco che a qualcuno servono argomenti per fare polemica, ma i fatti sono questi, né più né meno. Il lavoro si farà, il muro è lì, lo rifaremo. E oltretutto, voglio anche spiegare un'altra cosa che mi sembra importante. Nel lavoro di rifacimento delle leite idriche e fognari è previsto il rifacimento del sagrato della Chiesa, quindi delle scale e della sistemazione davanti alla Chiesa. È evidente che fare questo intervento non poteva essere scollegato con il rifacimento del muro. Quindi, in questa fase, la fretta è proprio perché noi dobbiamo chiudere questi, invece che sono fondi europei sui quali dobbiamo accelerare per spenderli e rendicontarli. Quindi, insieme al rifacimento del sagrato della Chiesa, andremo anche a rifare il muro. La tempistica. Perché si parte prima? Prima si poteva aspettare un giorno più, si poteva aspettare un giorno meno. Noi siamo concentrati, abbiamo un grande obiettivo, che è quello di portare avanti questi cantieri, qualificare, riqualificare e dare per la prossima estate un'immagine completamente diversa a tanti cittadini che arrivano, a tanti turisti che arrivano qui da noi a Castellabate. Con sabato mattina abbiamo letto un manifesto che polemizza sui lavori di restyling della Casa Comunale. Lei come risponde alle accuse, lengo testualmente, di aver creato scompiglio e confusione sommergendo gli uffici di polvere e frastoni? Insomma, la domanda è, ha fatto davvero non guacchio? Mi viene da ridere, esce di sabato veramente il manifesto, ma mi viene da ridere, perché oramai qui da noi molti hanno una consuetudine. C'è chi è abituato il sabato mattina ad andare al mercato e chi invece è in giro per le mura del Paese per vedere quale manifesto. Battuta a parte, veramente, insomma, io capisco anche la voglia, la volontà di creare la polemica o di portare futili e sterili argomentazioni. Però, insomma, anche sulla Casa Comunale stiamo facendo un lavoro. Sulla palestra, anche qui voglio dare una spiegazione, perché poi è facile creare polemiche del nulla, polemiche dell'inutile, cosa che si sta facendo. E i manifesti non sono altro che la polemica inutile del nulla. Allora, sulla Casa Comunale, noi abbiamo individuato la palestra come sede alternativa, però in questo momento, proprio perché siamo in un momento particolare, ci accingiamo anche a una tornata elettorale qui a Castellabate, quindi è inevitabile che la Casa Comunale resti comunque centrale, luogo dove arriveranno anche le attività appunto connesse alla tornata elettorale. abbiamo pensato bene di avviare tutte quelle attività esterne alla Casa Comunale, ossia tutte quelle attività per le quali non c'è bisogno di far uscire il personale, di far uscire i dipendenti dall'interno della Casa Comunale. Le palestre saranno utilizzate, come no? Ma nel momento in cui si chiuderà la fase, insomma, arriveremo al punto che dovremo arrivare all'interno, i lavori dovranno arrivare all'interno della Casa Comunale. Allora, quello sarà il momento in cui si utilizzerà la palestra. Nessuna scelta sbagliata, nessuna scelta, diciamo, superficiale, ma solamente una valutazione legata ai tempi e garantire in questo periodo di avere una Casa Comunale funzionale e efficiente. Lei ha parlato di elezioni, cioè chi dice che tutti questi cantieri siano stati aperti proprio perché a ridosso delle elezioni, quindi come un'autoselebrazione dell'Aggiunta Comunale che vuole far vedere quanto è bene ha lavorato e quanto ha lavorato in questi anni. Partiamo col dire che i lavori pubblici, tutto ciò che si fa in un territorio, quando si fa, va sempre bene. L'immobilismo che è dannoso e che non serve a niente, che non produce e non dà risultati. Questi lavori, ecco, dicevo, prima ad esempio il muro. Il muro purtroppo c'è stata una lunga vicissitudine perché prima si è dovuto aspettare copertura finanziaria legata alla devoluzione di un mutuo, poi si è dovuto rivedere alcuni aspetti progettuali, poi collegarlo al discorso del Sagrato della Chiesa. Casa Comunale abbiamo avuto dei ritardi legati un poco a delle vicissitudini legate. Prima si è data copertura finanziaria, poi la fase di aggiudicazione e di rapporti con l'impresa hanno fatto perdere un po' di tempo, ma ahimè, purtroppo le norme sono quelle e noi dobbiamo mantenerci e rispettare a quelle. Però voglio ricordare che i lavori pubblici non si fanno in 24 ore. I lavori pubblici sono frutto di programmazione, di costanza, di tenacia, di portare avanti i procedimenti, di assicurare le coperture finanziarie e poi realizzarli. È evidente che sono lavori che non sono nati ieri, sono lavori che sono nati un po' di tempo fa, che oggi vengono a conclusione, ai quali diamo il via. Però, ripeto, anche questa è una polemica che mi sento di dire sterile, veramente, perché se non ci sono, non ci sono, c'è immobilismo, se ci sono, sono troppi e danno fastidio. È veramente una polemica che credo invece che non interessa ai cittadini di Castellabate, che invece sono contenti e sono attenti nell'esecuzione dei lavori che si stanno facendo e della riqualificazione che si sta dando a questo territorio. e anche l'amministrazione sta facendo molta attenzione, anche noi, per le competenze che si possono avere, ma attraverso le strutture tecniche, via Fontana Nuova, abbiamo creato un disagio ai cittadini, ma ci siamo resi conto che era un lavoro che andava rifatto, andava rivisto e abbiamo preteso che si facesse, perché appunto sono soldi pubblici, vanno spesi bene e lavori si devono fare una volta sola. Quindi con questo spirito, con questo sacrificio, che è attenzione, che è presenza, che è, diciamo, interesse e sacrificio, direi, si stanno portando avanti questi lavori. Certo, ripeto, qualcuno potrà non essere contento, potrà non piacere questo tipo di cosa, ma veramente è una minima, minima, minima parte che ancora si diverte a scrivere manifesti rimasta 40 anni fa. Invece credo che il grosso, invece credo che le tante persone che io incontro tutti i giorni mi testimoniano la, diciamo, l'approvazione, la soddisfazione di vedere un cambiamento radicale che si sta facendo in questo territorio. Ma voglio ricordare, ad esempio, un'altra polemica che abbiamo assistito inizio anno, nel 2016 è partito con la polemica legata all'erosione costiera, al lavoro dell'erosione costiera. non voglio tornare sull'argomento sennò può sembrare accendere polemiche, però in questi giorni sta ritornando la sabbia. E anche qui un manifesto insomma che preludeva al disastro di questo intervento delle nostre spiagge, del nostro litorale viene parzialmente, ma ripeto, ancora non siamo a conclusione, io mi sono riservato di parlare alla fine di questo lavoro, viene parzialmente smentito dalla natura, dalla natura stessa che sta rimettendo, sta riportando la sabbia. Però oggi nessuno ne sta parlando. Quindi questo per dire cosa? Per dire che si alimentano le polemiche ed è giusto anche, io l'ho sempre detto, il dibattito è importante, il confronto, la democrazia, discutere, confrontarsi anche in maniera accesa, ma quando sono polemiche sterili o basate sul niente, veramente lasciano il tempo che trovano e i cittadini sono convinti che stanno valutando, stanno dando la giusta attenzione a queste cose che è veramente residuale e minimale. Infatti sono sempre meno quelli che li seguono e sempre meno quelli che si interessano a questo tipo di comunicazione. Continuando con le polemiche, forse proprio perché in questo clima di quasi elezioni c'è stata anche una polemica online, quindi non soltanto metodi antiquati come i manifesti, ma anche una polemica di una piccola testata locale che le ha dato un non classificato, quindi un brutto voto in pagella perché non ha risposto ad alcune loro domande. Come mai? Erano troppo scottanti queste domande? No, figuriamoci, nessuna domanda scottante e nemmeno amo scendere in polemica, l'ho detto, insomma, siamo concentrati su ben altro, sulle cose che stiamo facendo, le tante cose che stiamo facendo. Il giornale, insomma, il giornale fa le domande, fa il suo lavoro, insomma, il sindaco è a disposizione a raccogliere le domande, le interviste, insomma, qualora, insomma, c'è l'interesse di una testata giornalistica online, su carta, che insomma, voglia raccogliere le idee, i confronti, le opinioni del sindaco. Io sono sempre stato aperto e disponibile, lo sono, lo sono, dottor. Poi, quando le testate, invece, usano strumenti diversi per alimentare solamente, anche qui, polemiche, io dico, il giornale, chi?